Che bello! Ah, era una cenerina. E' appena arrivata la paperella. Se batti le mani vediamo come vuole. Batti le mani? Sì. Pronto? Via. Non si deve mettere. Hai visto? Bellissimo. Bello, bello il volo dell'airone cenerino. Molto bello, sì. Qui si allenano. E' già un paio d'orette che si allenano. Bello, bello. Ciao. Senti i tuoni? Sta preparando. Sì. Sta preparando il tempo. Sta preparando. Sta a piovere. Già gli scerata. Giusto? Sì. La passeggiata ce l'abbiamo fatta. Adesso è l'ora di andare a casa. Ciao a tutti. Alla prossima. Ciao. 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 Ciao.